elezioni da Lanzi a Belloni decolla la campagna elettorale pesarese caccia ai banditi che hanno rapinato e aggredito i coniugi di una villa di Fermignano continua la guerra delle antenne da Gradara cittadini pronti alle barricate in ottocento a Fano per la prima apertura dell'area archeologica di Via dell'Abbazia sport la WLS profonda prima volta i playoff invece per la Megabox Buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 25 marzo e apriamo questa edizione occupandoci di politica perché prende infatti vigore la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno l'8 e il 9 giugno per il prossimo sindaco di Pesaro dopo 38 anni in polizia Marco Lanzi si presenta come lo sfidante per la coalizione di centrodestra all'eterna presenza del centrosinistra in città e allora partiamo così Pesaro svolta aperta vivibile concreta una svolta intesa come un esortativo verso i cittadini pesaresi a partecipare ad un modo diverso di fare politica al punto di ristoro utopia della Parco Miralfiore si presenta con questo slogan Marco Lanzi 38 anni al servizio della polizia pesarese e ora candidato a sindaco della città per la coalizione di centrodestra Sono emozionato per questo momento io non sono un politico ho fatto tutt'altro nella vita però stamattina mi sono quando mi sono alzato ho pensato come iniziare il discorso di oggi cosa dire Marco tu devi partire da quello che hai sempre fatto dalle domande dalle domande giuste dalle domande che fai ai ragazzi quando li incontri nelle scuole quando chiedi di capire chiedi ai ragazzi cosa fanno sulla rete chiedi ai ragazzi se si sentono in disagio se vedono un futuro e purtroppo tanti ragazzi mi dicono no noi un futuro non lo vediamo voglio partire dalle domande giuste che io rivolgo anche ai genitori quando incontro i genitori ma voi i vostri ragazzi fate loro le domande giuste o gli chiedete soltanto come andate a scuola chiedete invece ai vostri ragazzi se quali emozioni in quel momento provano cosa provano nel mondo virtuale le domande giuste secondo me sono la chiave di tutto perché poi le domande giuste implicano le risposte giuste per capire anche i bisogni di un cittadino tu devi fargli la domanda giusta ma poi ho pensato ma questo è anche una cosa che poi anche ispirato tutta la mia attività professionale 38 anni di polizia scientifica io per riuscire anche a risolvere dei delitti dei crimini ho sempre dovuto fare le domande giuste ma non solo alle persone anche a me stesso all'ammiralfiore 200 persone hanno partecipato al coming out di l'anzi con tutti gli esponenti di centrodestra pesarese presenti e rafforzati dalla presenza del presidente della regione Marche acquaroli dall'assessore francesco baldelli dai parlamentari carloni leonardi e antonio baldelli oltre che dalla consigliera regionale baiocchi marcolanzi non ha bisogno dei miei consigli e credo che lo ha dimostrato nel suo percorso di vita per la sua attività professionale per quello che è diciamo il suo curriculum quello che mi sento di dire a questa città è che è una città che deve essere maggiormente integrata con il resto della regione perché le marche hanno bisogno di pesaro e pesaro ha bisogno delle marche appoggiati da fratelli d'italia lega forse italia udc e civici marche l'anzi ringrazia il centrodestra ma ricorda il suo volere essere il sindaco di tutti ribadendo il suo essere un esponente del civismo rappresentato anche dalla lista affiancata con la candidatura di antonio bartolomei improntata alle politiche giovanili io sono supportato al centrodestra però come voi sapete io ho deciso di schierare due liste civiche perché il mio è un impegno civico io ve lo giuro ve lo assicuro io voglio veramente cambiare il modo di fare politica in questa città e anche il modo di fare politica in genere noi non abbiamo ancora non ci siamo suddivise alcuna alcuna poltrona noi la parola poltrona non l'abbiamo neanche nominata il mio patto con chi ha comunque riposto in me questa enorme fiducia è stato chiaro guardate io innanzitutto voglio partire dall'ascolto come vi ho detto adesso dei bisogni dei cittadini poi però una cosa è fondamentale una risposta a questi bisogni noi non la possiamo mettere di dare spartendoci le poltrone così a priori la possiamo dare soltanto mettendo le persone giusto al posto giusto persone competenti e che abbiano la conoscenza adeguata per risolvere i problemi per la regione pesaro rimane l'ultima roccaforte inespugnabile per il centrodestra per acquaroli l'esito delle amministrative a pesaro non orienta o influisce sulle regionali del 2025 noi pensiamo che le elezioni amministrative di pesaro sono le elezioni amministrative di pesaro e non devono almeno da parte nostra essere strumentalizzate verso con altri obiettivi con secondi di fini vota la città di pesaro e cercherà di scegliere il candidato che più rappresenta i programmi che i cittadini ritengono giusti e adeguati per questa città continuiamo a parlare di politica perché praticamente in simultanea alla candidatura di Marco Lanzi in questo fine settimana è stato presentato anche il programma della lista civica una città in comune di nuovo guidata dall'assessore in carica Enzo Belloni la lista civica una città in comune dell'assessore pesarese Enzo Belloni apre ufficialmente le porte della propria sede e si presenta alla cittadinanza in vista delle elezioni amministrative di giugno l'obiettivo dichiarato da Belloni è quota 4.000 voti in uno scenario che secondo l'assessore li vede come lago della bilancia. Siamo operativi, siamo carichi, siamo in tanti e abbiamo appena iniziato un percorso di condivisione di quelle che possono essere le idee le proposte da fare alla cittadinanza e stiamo aumentando come numero di aderenti alla lista oggi è un'occasione per presentarci alla città non solo come ufficio, come sede che cercheremo di tenere aperto anche al mattino, in qualche ora, al pomeriggio più la sera per incontrarci assieme agli amici della lista e capire quali sono le sensibilità e le richieste della comunità noi le idee le abbiamo abbastanza chiare però io dico 100 test ragionano meglio di 2, di 3 o di 10 abbiamo predisposto dei moduli da consegnare manualmente in più ci sarà la possibilità di accedere online e compilare i moduli e farci avere un'idea ancora più chiara di quelle che sono le sensibilità della città la lista deve essere composta non da 32 persone che la vedono stesso modo ma visioni differenti che poi in qualche modo fanno una sintesi ci danno la possibilità di dare ai cittadini le risposte migliori possibili ovviamente non riusciremo a, non abbiamo la bacchetta magica però abbiamo la voglia e l'energia di metterci in gioco per portare avanti quelle che sono le nostre idee per continuare il lavoro che abbiamo iniziato per esempio uno su tutti sul Parco Miralfiore dove in qualche modo come lista, come Consiglio Comunale come consiglieri, con Sergio Castellani, con Giorgio Renardi ci siamo spesi molto affrontando anche battaglie non facili però ci abbiamo creduto e devo dire la serata dedicata alle luccele per esempio ci ha dato un po' in qualche modo il valore del lavoro che abbiamo fatto vedere alla sera alle 10 e mezza famiglie con i bambini dentro il parco penso che non si era mai visto Grandi manovre territoriali anche per le candidature alle elezioni europee il sindaco di Pesaro Matteo Ricci da settimane non fa mistero della sua disponibilità a candidarsi altrettanto dicasi per l'ex parlamentare Alessia Morani che oggi ha inaugurato la sua corsa alle europee avviando una campagna d'ascolto partita proprio dai canali social per poi proseguire con incontri sul territorio cominciando dai sindacati e dal mondo della sanità Ed ora passiamo alla cronaca perché continuano le indagini della polizia per dare un volto e un nome ai tre malviventi incappucciati che nella notte fra venerdì e sabato hanno rapinato la villa di Fermignano della famiglia Sartori legando gli anziani coniugi residenti e obbligandoli con minacce e percosse a farsi consegnare il contenuto della cassaforte ovvero contanti e preziosi per 35 mila euro per la famiglia Sartori imprenditori dell'azienda del mobile S2 si tratterebbe della quarta rapina subita le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono ad un'ultima ora che arriva dal territorio di Gradara dove nel pomeriggio è atterrata un'eliambulanza non distante dal palazzetto dello sport e dal supermercato Conad a quanto si apprende ci sarebbe stato un infortunio sul lavoro a scapito di un operaio impiegato nel vicino cantiere di realizzazione della scuola media di Gradara vi forniremo però ulteriori dettagli nei nostri prossimi spazi informativi lasciamo la cronaca ma restiamo a Gradara per occuparci di una nuova battaglia delle antenne oggi Rossini TV ha risposto alla segnalazione di alcuni suoi telespettatori per documentare un'installazione osteggiata da tanti come ricordano tra l'altro le 800 firme già raccolte contro questo impianto vediamo i cittadini di Gradara in rivolta al cospetto del via al cantiere per l'installazione di una torre di telefonia in via Mortola destinata a sorgere a pochi metri dal quartiere più densamente popolato del paese sono già più di 800 le firme raccolte in una petizione che vuole scongiurare l'installazione dell'impianto una mobilitazione alla quale solidarizza con preoccupazione anche il comune di Gradara ritenutosi parte l'esa di un sistema di installazione che continua a bypassare limiti e necessità degli enti locali ci siamo trovati da un giorno all'altro a vedere l'allestimento del cantiere con i lavori non sapendo che cosa fosse abbiamo chiesto agli operai che lavoravano ci hanno detto che avrebbero installato questa maxi antenna 5G che arriverà a circa 30 metri di altezza che si trova proprio vicino al quartiere più popoloso del nostro paese di Gradara e nell'immediata vicinanza delle nostre case dei residenti che abitano qui in via Mortola qui di fronte abbiamo un terreno di più di 20 ettari sinceramente non abbiamo mai saputo nulla fino al giorno in cui abbiamo visto i lavori e questo ci ha dato molto fastidio e sinceramente non ce l'aspettavamo che venisse installata un'antenna così grande le porte del nostro comune che non è un bel biglietto da visita per tutte le persone che arrivano e in più a maggior ragione con un terreno così grande di più di 20 ettari qui davanti a casa nostra io penso che si poteva trovare un'altra soluzione per non dar fastidio a nessuno o a meno persone possibili anche visto che vicino a noi ci sono le scuole e c'è il barco pubblico dove giocano i bambini il cittadino deve essere informato non può essere messo nell'angolo quando fanno questi interventi dove il diritto dei cittadini deve essere rispettato deve essere informato prima che comincino a deturpare il territorio incominciamo ad avere una giurisprudenza con qualche sentenza di qualche tar che sostengono che sia la vicinanza alle abitazioni ma anche la vicinanza ai complessi scolastici da parte di queste torri che hanno un'altezza elevata una potenza di un certo tipo non sia né sano e quindi possa minare il diritto alla salute di questi abitanti ma soprattutto dei bambini e non sia anche dal punto di vista in questo caso paesaggistico sia una grave violazione del diritto al paesaggio che comunque i cittadini hanno puoi piazzare le antenne dove vuoi noi siamo stati avvisati come comune all'ultimo queste aziende qui arrivano passano tramite il SUAP e bypassano un po' tutte le autorizzazioni comunali il comune è stato uno spettatore noi abbiamo saputo a fine gennaio che avrebbero fatto questa installazione noi abbiamo chiesto se poteva essere spostata ci è stato risposto solamente di no e neanche 20 giorni dopo hanno già iniziato a fare i lavori noi un regolamento non l'abbiamo gradare alle antenne ne abbiamo una solamente a Granarola e niente adesso ci attrezzeremo subito abbiamo già incaricato incaricheremo al più presto una ditta per fare un piano di queste antenne su dove era possibile installarle io avrei preferito che almeno questi operatori fossero venuti da noi avrebbero magari condiviso anche se questo è un terreno privato dove il comune non ha competenza però almeno potrebbero aver condiviso sarei stato più felice se ci avessero chiamato e ci avessero detto guarda abbiamo intenzione di installarla lì così non è stato adesso questa sera faremo un consiglio straordinario proprio per ribadire la nostra posizione dove diciamo che non ci piacciono queste antenne così vicino alle case almeno potevano noi non siamo contro la tecnologia però noi vorremmo che almeno fossero un po' più distanti e non causassero dei problemi ai cittadini e più di 800 sono anche le persone che questo weekend sono andate alla scoperta dell'area archeologica di via dell'Abbazia a Fano un'altra porzione di Fano romana svelata per la prima volta grazie proprio alle giornate FAI di primavera centinaia di persone sabato e domenica hanno partecipato alle aperture straordinarie delle giornate del FAI di primavera con il Fondo Ambiente Italiano che fra il 23 e 24 marzo ha svelato 18 gioielli nascosti nei territori della provincia di Pesaro Urbino luoghi normalmente chiusi al pubblico che tornano ad aprirsi eccezionalmente e in alcuni casi si svelano per la prima volta e il caso di Fano e della sua area archeologica sotterranea compresa all'angolo fra via Roma e via dell'Abbazia una scoperta che avvenne casualmente 20 anni orsono durante gli scavi di un cantiere edile dal 2004 ad oggi l'area è stata oggetto di un lungo perdurare di lavori in corso e sopralluoghi di tecnici e studiosi fino all'accordo fra FAI e soprintendenza per questa apertura eccezionale che ha mostrato ai visitatori i resti di una villa di età romana un grande sepolcreto adiacente alla stessa villa e reperti medievali dell'Abbazia di San Paterniano una visita che prima di addentrarsi nei sotterranei ha mostrato anche l'oratorio di San Martino di forma esagonale che ricorda come in quel luogo per oltre mille anni venne custodito il corpo di San Paterniano patrono della città ad accompagnare i visitatori oltre ai ciceroni del FAI anche l'archeologa Vanessa Lani direttrice della rete museale Flaminia che ha seguito gli scavi dell'area fin dal principio Continuiamo a parlare di eventi e manifestazioni 4.000 persone la prima sera 9.000 il sabato e 7.000 ieri sera in totale sono stati 20.000 i pesaresi che in questo fine settimana hanno fatto tappa al Parco Miralfiore per assistere a Spark lo spettacolo gratuito portato a Pesaro in anteprima nazionale dall'artista olandese Dan Rosergaarde spettacolo che ha affascinato il pubblico con il colorato fluttuare di migliaia di piccoli fuochi d'artificio organici e biodegradabili uno spettacolo che potrete apprezzare e che vi mostreremo nello speciale televisivo venerdì 29 marzo alle 21.20 questa mattina 50 alunni dei licei di Pesaro e Fano hanno partecipato ad una giornata di lezioni teoriche e pratiche di ortopedia all'interno di un track allestito per l'occasione nell'area formazione dell'ospedale di Muraglia un'iniziativa dell'azienda sanitaria pesarese e degli ortopedici del San Salvatore per avvicinare i giovani alla formazione dei futuri professionisti del futuro Patrizia Caimi è stata eletta come nuova presidente dell'associazione 50 e più di Confcommercio Marche Nord succede ad Alberto Dolci ed è stata eletta all'unanimità domani 26 marzo alle ore 21 sarà proiettato al cinema Solaris di Pesaro il documentario di Filippo Biagianti dalla semina al cielo che racconta la vicenda umana fuori dall'ordinario di Gino Girolomoni considerato il padre del biologico in Italia l'iniziativa è organizzata da Hauser Pantano e dall'associazione culturale La Stele oltre a regista saranno presenti in sala il presidente della provincia Giuseppe Paolini e una rappresentanza della famiglia Girolomoni e parliamo di un altro progetto di Pesaro 2024 quello dei commercianti che hanno partecipato alla promozione della capitale della cultura attraverso gli spazi dei loro negozi oggi il comune ha infatti premiato il concorso per le vetrine più belle della città concorso al quale hanno partecipato 17 attività è che è stato vinto a pari merito dai titolari di Silvia Stink e officina d'arte entrambi in via Tebaldi e di vesti il lavoro di via Cimarosa commercianti che hanno vinto a confezioni di prodotti d'eccellenza del territorio e i due biglietti per il Rossini Opera Festival 2024 per il secondo anno consecutivo quasi 300 persone hanno partecipato al Memorial Ranocchi evento podistico non competitivo volto a ricordare Giovanni Ranocchi grande imprenditore pesarese scomparso quattro anni fa una bella giornata di sport e solidarietà che ripercorriamo in questo prossimo servizio di nuovo in marcia nel ricordo di Giovanni Ranocchi per il secondo anno consecutivo una carovana in rosso di 270 persone si è messa in cammino per una bella giornata di sport e solidarietà a quattro anni dalla scomparsa dell'imprenditore leader di Team System e Ranocchi Software un secondo Memorial Ranocchi organizzato dall'associazione sportiva marotta Mondolfo Ran e dal suo presidente Lorenzo Lisotti nel segno dei valori dello sport e dell'inclusione tanto cari al compianto Giovanni accompagnati da un bel sole primaverile 270 persone hanno partecipato a 6 km di camminata immersa nel verde di Gradara fra il relevo in la Matarazzo, la Rocca e il rientro alla stessa villa testimonial dell'evento la pluripremiata runner e maratoneta pesarese Valeria Baldassarri che si è messa in marcia al fianco dei tanti partecipanti fra queste le sorelle di Giovanni Ranocchi la figlia Arianna che ha raccolto l'eredità imprenditoriale di Giovanni amici e dipendenti della Ranocchi Software presenti anche diversi amministratori locali dal sindaco di Gradara Filippo Gasperi alla consigliera comunale di Pesero Mila della Dora dalla consigliera regionale Michela Vitri al candidato a sindaco di Pesero Marco Lanzi in una camminata accompagnata dalla benedizione per la Domenica delle Palme anche la solidarietà di Iopra che ha venduto le sue uova di Pasqua e soprattutto di Insuperabili di Giulia associazione a tutela dei diritti di disabilità ai quali sono stati devoluti 2.500 euro donati in offerta libera dai partecipanti dell'evento e come di consueto l'appuntamento del lunedì viene chiuso con notizie che riguardano lo sport un weekend nerissimo per la VL e anche per la Vispesaro domenica storica invece per la Megabox Vallefoglia che per la prima volta nella sua storia approda ai playoff di Serie A di Volley vediamo atteggiamento vergognoso, apatico e senza giustificazioni le parole di coach Romeo Sacchetti sintetizzano senza giri di parole la prestazione di una VL che affonda senza attenuanti in una gara decisiva contro l'Una Hotel Reggio Emilia e che ora vede adombrarsi sempre più minacciosi i fantasmi della retrocessione a Pesaro la palla canestro reggiana vince 87-69 creando già nel primo tempo un solco reso poi incolmabile dall'impalpabile reazione dei pesaresi in Serie B sorride invece l'Ital Service Loreto Basket che a Pesaro batte Val di Cepo 75-69 concludendo l'andata della fase play-in con un confortante unplay-in di 4 vittorie su 4 dal basket alla pallavolo la Megabox Vallefoglia conquista la prima qualificazione ai playoff della sua storia davanti ad un palamegabox sold out le tigri battono in 3-7 l'Allianz Milano che ha fatto meno di buona parte del suo sestetto titolare reduce dalla battaglia di Istanbul ma che ha venduto cara la pelle sino alla fine una Megabox motivata e battagliera esulta vincendo i 3-7 27-25, 25-19, 25-22 nel calcio terza sconfitta consecutiva per la Vis la quinta nelle ultime sei gare per un ruolino di marcia che rende complicatissima la situazione dei biancorossi a Sassari in casa della Torres seconda in classifica la punizione severa arriva al 93esimo col colpo di testa vincente di Diachite che condanna la Vis a ballare fra quarto ultimo e terzo ultimo posto assieme alla Re Canatese sconfitta anche nel rugby per una Fiorini-Pesaro che si presenta fortemente rimaneggiata a Casale e perde con il punteggio di 28-7 Il telegiornale finisce qui ma restate con noi perché tra pochissimo un nuovo approfondimento dedicato a Pesaro, capitale della cultura 20-24 tra pochissimo intorno alle 20 troverete un nuovo contenitore e tutte le informazioni che riguardano appunto questo anno capitale e poi come tutti i lunedì alle 21.20 torna CECAP Obiettivo Salute questa sera parliamo della pressione arteriosa e lo facciamo con il dottor Gino Duronio che è medico chirurgo e specialista in cardiologia vi aspettiamo alle 21.20 e subito dopo l'inaugurazione del nuovo campus scientifico Enrico Mattei che è avvenuto proprio all'Università di Urbino domani invece vi aspetto e ritorno con grande piacere con voi alla rassegna stampa Buongiorno Rossini e quindi puntuali 7.20 in diretta sul canale 80 in diretta sulla nostra pagina Facebook sulla nostra applicazione e anche sul nostro sito internetrossinitv.it e adesso guardiamo anche come sarà il meteo per i prossimi giorni restate con noi buon proseguimento di serata